Allora, ci siamo mossi perché la frase che dicono che tutti sapete, motion create emotion, quindi il movimento crea emozioni e le emozioni chiaramente sono dominanti in noi e ci controllano. Oggi parleremo di abitudini, la mia parte andrà più sul sogno e sulle abitudini. Oggi avete scritto obiettivi, è una parte della formula, non è tutto, sarebbe troppo facile scrivere obiettivi sul manuale e raggiungerli. Ci sono altre parti della formula necessarie alla realizzazione di quegli obiettivi lì. Il movimento, l'energia è fondamentale, ci sono diverse cose che influenzano i nostri pensieri, la prima cosa che influenza i nostri pensieri è proprio l'energia, quindi quando vi sentite giù fate movimento, lo sport è il più grande antidepressivo del mondo, purtroppo non lo prescrivono come cura, però funziona proprio chimicamente in questo modo. Quindi, visto che abbiamo un'altra ora, abbiamo bisogno di una ricarica, abbiamo fatto un po' di sport. Aggiungiamo un tassello di autoanalisi, a che velocità state andando. Secondo me è molto importante che ognuno di noi consapevolizzi la velocità con cui sta andando. In generale, nella vita, siete in retromarcia, siete nella zona di comfort e quindi in retromarcia è uno che sta fermo, non uno che va indietro. Probabilmente nessuno di noi intenzionalmente va indietro, ma oggi se stai fermo in realtà stai andando indietro. Perché il mondo cambia, va avanti e tu stando fermo vai indietro. Sei nella zona di comfort, quindi sei comodo, sai che potresti ottenere di più, ma non hai voglia, non hai fame, non è il momento giusto e quindi sai consapevolmente di poter ottenere di più, ma sei fermo, oppure sei overdrive. E quindi sei al massimo delle tue capacità, delle tue potenzialità, della tua velocità. Questa è un'analisi da fare perché ognuno di noi nel 2020 dovrebbe andare allo scalino successivo. Questo è un libro che penso abbiate letto più o meno tutti, o tutti abbiate sentito parlare di questo libro, Pensa e arricchisci te stesso. La cosa fantastica è che Pensa e arricchisci te stesso è un riassunto della legge del successo. Mille pagine, mille pagine dove Napoleon Hill intervistando tutte le persone di successo d'America, dopo 50 anni scrive la legge del successo. La versione commerciale è Pensa e arricchisci te stesso, 9 euro. Compratelo se non ce l'avete, mettete proprio come obiettivo leggere Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. Che cosa dice la legge del successo? Dice, questo è il riassunto, obiettivo, strategia, azione, non mollare. Oggi voi siete a metà dell'equazione. Oggi avete impostato gli obiettivi, avete anche impostato la strategia probabilmente, e quindi siete già a metà della formula. Chiaramente l'altra metà della formula è quella più importante. Avete settato la rotta che è già tantissimo, è già più di quello che fa il 99% di gente là fuori, poi c'è anche la parte del comportamento, delle azioni, cioè di andare a fare le cose. Nel fare c'è un mondo, nel fare ci sono le incazzature, ci sono gli alti e bassi emozionali, ci sono i fallimenti, e quindi nell'azione non mollare c'è un mondo che andremo a vedere. Però siete già a metà. C'è una differenza tra padroneggiare gli obiettivi e essere orientati. Anche qui è un processo. Il processo è il seguente. Si parte dal livello di apprendimento 1, cioè non sai che gli obiettivi esistono. Io ho scoperto che cosa fosse un obiettivo a 32 anni. Quindi fino a 31 anni ero a livello 1. Non me ne avevano mai parlato, avevo sentito dire la parola mentre giocavo a calcio, nel nazionale di San Marino, l'obiettivo è non perdere la faccia. Se avessi saputo cos'era un obiettivo gli avessi detto non è un obiettivo, non è misurabile, non ha una scadenza. Che è triste questa cosa. È triste che nel sistema scolastico piuttosto che di vita lavorativo nessuno ti insegni che cos'è un obiettivo. Come avete imparato oggi, senza obiettivi, cosa siamo noi? Siamo persone che girovagano senza far niente, sciupando la vita. Una volta che scopri che cos'è un obiettivo e sai che cosa sono, arriverà un punto dove li conosci ma non li imposti. Tutti arrivano a un punto che capiscono qualcosa ma non la fanno. Poi arriverà un punto dove magari avrete necessità di impostare un po' di obiettivi. Quindi magari sulla salute, sulla perdita di peso. Un'area della ruota della vita. Il punto 3 è quando imposti uno o due ruoli. Poi arriverà un punto dove invece iniziate a diventare dei maestri. Avete capito come funziona il gioco e lì potete impostare altre aree in maniera importante, in maniera efficace. Poi come vi ha detto Francesco oggi non è che dobbiamo sempre farcela. Anche se a scuola ci hanno insegnato che con 59 su 100 siamo bocciati. Se fate 59 su 100 del bestiaire ever diventate le persone più felici del mondo, più ricche della terra. Il paradigma che se l'obiettivo è 100% e tu fai 70, hai fallito l'obiettivo, è totalmente da trasformare. Non ho fallito l'obiettivo, ne ho fatto il 70%. Arriverà un punto dove, come oggi, all'inizio anno imposterete gli obiettivi e l'anno diventerà una conseguenza di quello che avete intenzionalmente scelto. Non il contrario. Che l'anno è casuale e quello che viene dipende da come casualmente avete speso il tempo. No, 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 no. Adesso giri la ruota perché sei passato attraverso questo processo. Alla fine dell'anno ci ritiriamo in una location esotica dove c'è il mare, dove riesce ad essere ispirato perché non riesce ad essere ispirato nel traffico, non riesce ad essere ispirato sotto routine. Se io devo scegliere cosa voglio nella mia vita, lo scelgo alle Maldive. Non lo posso scegliere in casa, con lo stress giornaliero. Cioè lì i miei standard si abbassano drasticamente. Tutti siamo vittima dell'ambiente, veniamo influenzati dagli odori, dagli ambienti, dalle sensazioni, anch'io. E quindi sono andato alle Maldive, perché me lo posso permettere? Si può andare anche qui di fuori, è la stessa cosa. Per due giorni ho pensato cosa voglio nella mia vita in quell'area, in quell'area, in quell'area, in quell'area. L'ho scritto e quello non cambia più. Non cambia in base ai miei stati d'animo in cui mi trovo qua. Io ho già deciso due settimane fa cosa voglio nella mia vita. E quello non cambia. E quello non cambia. Poi adesso me la devo vedere sul campo tutti i giorni per far sì che succeda. Ma mai andrò a rivedere quelle cose. Perché se ognuno di noi rinuncia ai propri obiettivi, mai, mai abbassare i propri standard, mai abbassare i propri obiettivi. Mai. Oggi funziona così. Impostiamo gli obiettivi e dopo viviamo per raggiungere quegli obiettivi. Però è un processo. Datevi tempo. Già se in questo anno riuscirete a mettere a posto uno spicchio di quella ruota, il prioritario, farete una differenza enorme. Datevi del tempo. Quello che avete fatto oggi è il primo tassello del nomino che innesca una serie di reazioni a catena. La prima cosa che noterete, e magari avete già notato, che quando siamo concentrati su una cosa, focalizzati su una cosa e la vogliamo, sembra che qualcuno ci dia una mano. C'è qualcuno che ha già vissuto questa cosa? Quando l'intenzione che hai è sacra, cioè dalla serie lo vuoi, ce la fai sempre, sempre. Pensate a una cosa anche piccola, che avete voluto in maniera intensa. Che ne so, andare a cena con una persona. Oppure una borsa, piuttosto che un'agenda, qualcosa che magari non vi potevate permettere, ma che vi eravate messi in testa. È successa. E magari si è incastrato qualcosa, affinché succedesse. Lo possiamo chiamare Dio, universo, fede. Ognuno gli dia il suo nome, ma succede. Quindi questo è fantastico. Il fatto solo di concentrarsi su quello che volete, sembra darci condizioni esterne migliori. La seconda cosa è questa, è che logicamente, se siete indaffarati a raggiungere quello che avete scritto lì, non avete tempo per altro. Il tempo è una risorsa scarsa, non c'è per fare tutto. Dovete scegliere se usare il tempo per raggiungere quello che avete scritto lì, o per raggiungere altro. Voi volete quello che c'è scritto lì, o random volete la vostra vita, casuale. Cosa volete? Quello che c'è scritto lì. Bene, se mettete il tempo lì, non avete spazio per altro. Sappiate che non ci può essere spazio per entrambi. Se non vi concentrate lì, vi distraete. E se vi distraete, quelle cose non succedono. Oggi è l'era della distrazione. Usciamo da qua? Quando uscirete da qua e prendete il cellulare in mano, nei primi cinque minuti avrete più input di tutt'oggi. Messaggi. Sapete quanti messaggi vengono scambiati? Il dato nuovo è 85 miliardi al giorno. Notifiche. Push, 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 email. E molte volte tendiamo ad accettare tutto, perché non sappiamo quello che vogliamo. Se voi state concentrati lì, non accetterete tutto. Questo è dappertutto. È nel mio zaino, è nella mia macchina, è nella mia doccia, cioè nel bagno, è nella mia camera, è sul mio comodino. Perché ho bisogno di vederlo? Perché nonostante abbia fatto il bestiaire ever, sia estremamente una persona focalizzata, che sa quello che vuole, il mondo mi prende anche a me. Questi sono gli obiettivi, valori, abitudini. Volete sapere il mio primo valore? Presenza. Vuol dire che quando fai qualcosa ci sei. Che oggi è pieno di gente che si preoccupa di fare, 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 mentre fa, non c'è. E la differenza non la fa la quantità di tempo che mettete con le persone a fare le cose, la fa la qualità del tempo. Ci sono persone che non senti da dieci anni, nonostante questo, quando le rincontri c'è talmente sintonia, c'è talmente tanta presenza, che non ti importa se non li senti da dieci anni. È come se li avessi accanto tutti i giorni. Invece c'è gente di fianco a noi tutti i giorni che sembra di non averli mai conosciuti. Terza cosa è che chimicamente è un grande aiuto. Ogni volta che raggiungiamo un obiettivo noi sviluppiamo la dopamina, che è l'ormone del piacere, ci fa sentire benissimo. Le emozioni sono ormoni, sono proprio chimicamente delle sostanze. E raggiungere obiettivi ci fa stare alla grande. Già è un tool per essere motivati. E se noi non riempiamo un quaderno del genere, dove gli diciamo tutto quello che vogliamo, va a finire che il corpo umano, la dopamina, se la va a prendere da qualche altra parte, perché ne ha bisogno. L'essere umano è una macchina perfetta, ha due talenti. Il primo è costruire delle relazioni. Il secondo talento, ragazzi, è raggiungere obiettivi. Sapete perché abbiamo questo rilascio di dopamina? Perché in antichità ci serviva per essere concentrati sugli obiettivi. E quindi quando vedevi una preda o quando vedevi una mela su un albero, solo il fatto di vederla ti dava quella scarica di dopamina in modo da tenerti più concentrato sulla bestia o sulla mela. E più ti avvicinavi all'obiettivo, più ti dava sensazioni di positivi con la dopamina. Siamo costruiti per raggiungere le cose. Qualsiasi cosa voi pianificate di avere, ce l'avete oggi. Ad esempio essere pigri. Se il vostro obiettivo è essere pigri, il corpo è una macchina che dice dammi le coordinate, io lì ci arrivo. Se io non riempio quel manuale e girovago senza obiettivi nella mia vita, cosa succede? Che il corpo se la va a cercare da un'altra parte e fa una serie di attività banali che ci provocano piacere. E dopo un po' ne diventiamo schiavi. La daily routine. Chi conosce persone che lavano la macchina ogni 30 minuti, anche quando piove? Chi conosce persone che tagliano l'erba anche quando non c'è più l'erba, l'hai tagliata tutta? Oppure, eccetera, eccetera, eccetera. Fare la spesa. C'è già la spesa. Schiavitù. Chimica, schiavitù. Questa per me fu una presa chiave. In assenza di definiti e chiari obiettivi, tipo quelli che avete voi sul manuale, quello è un obiettivo chiaro e definito. Quindi in assenza del manuale, diventiamo stranamente leali a una daily routine finché non ne diventiamo schiavi. Ogni volta che compio un'attività, chimicamente il corpo rilascia dopamina. Si sente bene. Il trucco qual è? Sostituire la to-do list con una leave list. L'arte del raggiungimento degli obiettivi non è nell'obiettivo stesso, è nel partire da qualcosa di più grande. È bello avere un obiettivo, ma adesso vi do la formula completa. Dobbiamo iniziare da qua. Dobbiamo iniziare da pensare in grande. Adesso andiamo a lavorare su qualcosa di molto diverso rispetto a quello che avete visto finora, che sono gli obiettivi. L'obiettivo è una metrica, è una metrica misurabile, è una metrica raggiungibile, deve essere spidante, però è raggiungibile. Il sogno è invece qualcosa proprio di diverso. Il sogno vi emoziona, c'è questo collegamento emozionale e non ha una data di scadenza. È qualcosa che per voi è importante, è qualcosa che vi fa felici. Il sogno risponde alla domanda cosa mi fa felice. La risposta è il sogno. Cosa vorreste avere per voi? È qualcosa che riguarda voi. Oggi abbiamo un po' perso l'abitudine a sognare, ma sappiate che nel mio processo non parto dagli obiettivi, parto dallo scopo, poi vado ai sogni e dopo passo agli obiettivi, che sono metriche definite, che però mi devono accompagnare qua. Cioè voi non state navigando per andare sull'isolotto che è l'obiettivo, voi state navigando attraverso i vostri obiettivi per raggiungere dopo qualcosa che vi piace, qualcosa che vi soddisfa. Altrimenti, se non avrete qualcosa di più grande, emozionalmente significativo per voi, non avrete la forza di andare attraverso le difficoltà che ci saranno qua. Senza il sogno dopo tutti quegli obiettivi che avete scritto, sicuramente farete più fatica. Quindi adesso ci prendiamo due minuti di tempo con un po' di musica per andare proprio a concentrare la vostra attenzione sui sogni, su quello che volete per voi. Non concentratevi subito sugli altri, di solito quando chiediamo i sogni in sala aiutare, aiutare, aiutare. La prima persona che dovete aiutare chi è? Voi. Se non aiuti te stesso non puoi aiutare nessun altro. E quando il sogno è grande abbastanza le interferenze scompaiono. Non sognare da egoisti invece. A noi ci insegnano l'opposto. Voi volete la piscina in casa, volete un parco macchine, volete andare, volete fare dieci vacanze all'anno. Cosa volete per voi? Se non sapete cosa volete davvero per voi, quello che davvero per voi è importante, gli obiettivi diventano uno stress. Voi pensate se Elon Musk o Bezos, il fondatore di Amazon, avessero avuto sogni piccoli. Non ci sarebbero milioni di posti di lavoro. O se Mark Zuckerberg avesse avuto sogni piccoli, non ci sarebbero migliaia, centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ci insegnano fin da piccolini che sognare non va bene. E noi dobbiamo proprio cambiare questo paradigma. Perché non c'è mai stata una persona che ha raggiunto i propri sogni che non abbia impattato sul numero grande di persone. Avete mai conosciuto uno che è diventato milionario da solo, senza creare un impatto, senza dare posti di lavoro, senza creare appunto un impatto sui clienti? Avete mai conosciuto? No. Non sognare da egoista. Ridurre i propri sogni da egoista. Perché più riduci il tuo sogno, più si riduce l'impatto che avrai nel mondo. Le categorie di sogni sono dove andrai, cosa otterrai e chi aiuterai. Vi consiglio di farli in sequenza. Egoisticamente, se in questo mondo ci fosse tutta l'abbondanza infinita in questo mondo, che cosa vorreste per voi? Consiglio a tutti di andare a Dubai, magari se non siete mai andati. Per alcuni di voi può essere un obiettivo, può avere una data, per alcuni di voi può essere troppo lontano perché non avete le risorse o di tempo economiche. Mettetelo nella vostra lista dei sogni. L'ambiente è proprio il vostro scudo. Può essere la vostra ancora o può essere la vostra propulsione, senza andarvi a insegnare tante cose. Io vi consiglio, in vai o fuori da vai, di intenzionalmente cercare ambienti potenzianti. Il primo probabilmente sono i corsi di formazione, gli eventi. C'è gente veramente di qualità. Quando io vado a fare un corso di formazione fuori dalla mia azienda, mi trovo più in sintonia con quelle persone lì di che ho in casa perché vogliamo le stesse cose, abbiamo gli stessi desideri ed è importantissimo. Perché ricordatevi che i vostri sogni, oggi chi non ha scritto i sogni, è semplice perché, non perché non li ha, perché è circondato da gente che non li ha. Scegliete gli amici all'altezza dei vostri sogni. Siate magnanimi con voi stessi. Anche se raggiungerete il 30% degli obiettivi di quel manuale, la vostra vita sarà cambiata. E non datevi colpe. Nick dice sempre che l'imprenditore è colui che si setta obiettivi alti, li sbaglia e si perdona all'istante e ritorna a lavorare. Abbiamo proprio questo paradigma, questo programma automatico della paura del fallire in Italia. Sapete perché gli angels investor non investono in Italia? Sono quelle persone che sono talmente ricche che ti danno la possibilità di parlare 5 minuti davanti a loro e se la tua idea gli piace ti danno un milione nelle mani. Coloro che fondano le start-up semplicemente perché conoscono l'attitudine dell'italiano al fallimento. Noi abbiamo paura di sbagliare mentre invece in America se hai fallito almeno una volta ti finanziano perché hai pagato l'università perché hai imparato quello che non funzionava per cui sicuramente ognuno di voi oggi ha un'app dentro dove sbagliare è sbagliato dove fallire non va bene in realtà è l'esatto opposto. Vi ho portato i miei proprio per farvi vedere che praticamente la maggior parte li sbaglio sempre ma sono talmente alti e sono talmente costanti che comunque la vita cambia in maniera incredibile. Adesso andiamo ad aggiungere un'altra l'ultimo tassello che è quello dolente perché settare gli obiettivi è bello vi fa sentire bene sviluppa dopamina sappiamo che vi piace perché chimicamente fa stare bene anche solo pensarci neanche raggiungerli pensarci pensare ai propri sogni se a qualcuno di voi è sembrato strano male perché quando eravate bambini li avevate e poi avete creduto alla storiella di qualcuno e li avete abbassati oppure cestinati male però comunque quando ti riabituo è bellissimo molto bello addirittura trovare uno scopo è proprio trovare trovare la chiamata la tua vocazione quindi è qualcosa di meraviglioso andare a parlare di abitudini fa un po' più male invece noi siamo la somma delle nostre abitudini volete sapere le vostre abitudini guardate la vostra vita a che punto è risultato delle vostre abitudini ogni obiettivo come abbiamo detto prima è la metrica che misura la distanza dal tuo sogno quindi se dietro non c'è qualcosa di più grande importante per te quegli obiettivi che avete su carta magari a qualcuno ci arrivate ma la maggior parte no e richiedono delle azioni quotidiane sono il timone della barca ci vorranno continue correzioni continui adattamenti a quel timone per arrivare a quell'isolotto cioè a quell'obiettivo senza il timone la barca va la nave va alla deriva timone di quella nave sono le nostre abitudini se noi abbiamo questo isolotto l'obiettivo della peso forma perfetto e noi ogni giorno non facciamo almeno una cosa che ci porta verso quell'isolotto ci arriveremo mai? no assolutamente no quindi le abitudini sono importantissime le abitudini regnano lì regnano nel subconscio sono come delle app la parte software delle app è il nostro subconscio e lì risiedono tutte le abitudini e quindi dobbiamo andare a vedere che cosa c'è lì a diventarne consapevole e a cercare e accettare di cambiare cioè se io fumo potrò mai essere sano? quell'abitudine lì è subconscia ormai cioè non è che pensate di prendere il pacchetto di sigarette voi create il vostro ambiente affinché quel pacchetto di sigarette sia lì e il fatto che lo prendete ormai è automatico dobbiamo andare a vedere le app che non sono potenziali con il nostro obiettivo e andare a riprogrammarle e non è facile cambiare abitudine è difficilissimo fare sport tutti i giorni per chi non lo fa è una violenza mangiare bene per chi è abituato a mangiare male è una violenza è perché serve il sogno perché serve lo scopo qualcosa di più grande della semplice metrica da raggiungere per darti quella forza di cambiare le tue abitudini e se tu non cambi le tue abitudini è una truffa è tutta una bugia sei il Truman Show e il protagonista sei tu e anche il regista sei tu della tua stessa vita vuol dire che ti dici le bugie da soli quindi per quello bisogna lavorare tanto sulla parte che non si vede e purtroppo le nostre abitudini non le abbiamo scelte noi se no avremmo fatto allora c'è la della forma fisica ok allora io compro quella 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 e quella invece le nostre abitudini nel nostro subconscio ci sono state registrate per la maggior parte dai 0 ai 6 anni quando il cervello del bambino è in una fase di vibrazione molto bassa teta dove il bambino è in continuo download dall'ambiente scarica 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 le sensazioni tutto quello che vede dai 0 ai 6 anni scarica e crea le sue app in base a quello che vede sente e quelle ci portiamo dietro poi chiaramente la scuola le persone che hanno influenza su di noi ci creano le nostre abbe e noi quando arriviamo a 12 anni siamo già totalmente programmati ma le abitudini che abbiamo i programmi che abbiamo non le abbiamo scelti ce li hanno messi e magari ce li hanno anche messi inconsapevolmente chi è che si ritrova un'abitudine che non vuole e ogni cosa ogni comportamento abitudinario ogni pensiero ricorrente ci controlla e ogni volta che c'è una novità ho paura quella è un'abitudine pensare di continuo di avere paura è un'abitudine e quell'abitudine lì ti offre opportunità o no? no ti tiene lì dove sei non ti fa mai evolvere ma quella paura lì te l'ha messa in testa qualcuno quindi sia a livello di pensieri ricorrenti che di comportamenti ricorrenti dobbiamo stare molto attento perché tutto ciò che è ricorrente ci comanda e si può cambiare tranquillamente noi siamo proprio l'esempio di come si può evolvere ci vuole qualcosa di importante da andarsi a prendere dopo sono il tuo costante compagno sono il tuo più grande aiuto o il più pesante fardello ti spingerò avanti o ti trascinerò al fallimento sono completamente al tuo comando metà delle cose che fai potresti delegarle a me e io le farò rapidamente e correttamente sono facilmente gestibile devi essere fermo con me mostrami esattamente come vuoi che qualcosa sia fatto e dopo poche lezioni lo farò automaticamente io sono il servitore di grande persone e purtroppo anche di tutte le rovine quelli che sono grandi li ho resi grandi quelli che sono falliti li ho fatti fallire io non sono una macchina anche se lavoro con la precisione di una macchina più l'intelligenza di una persona prendimi insegnami sii risoluto con me e io metterò il mondo ai tuoi piedi sii alla mano con me quindi leggero e io ti distruggerò chi sono io? sono le tue abitudini se no ragazzi sarebbe una bugia e noi non vogliamo raccontarvi bugie né vendervi corsi vogliamo cambiarvi la vita vogliamo farvi raggiungere gli obiettivi la parte dolente di tutta la formula è solo una le abitudini che sono obiettivi quotidiani sono piccoli step quotidiani che noi facciamo verso il raggiungimento degli obiettivi inseguendo i nostri sogni essendo sotto la nostra chiamata questa è un po' la formula le manette delle abitudini sono leggere perché sono leggere? perché è facile farla una cosa al primo giorno ma è anche facile non farla è il fatto che tu non la faccia oggi lo vedi oggi il risultato? non te ne accorgi ma arriverà un punto che da leggere diventeranno granitiche e tu non le potrai più non ti potrai più liberare perché se vivi una vita e arrivi a 60 65 70 anni 50 quello che è dove la tua forma mentis è quella dove le tue abitudini sono quelle è più facile rimanere dove sei o evolvere? cioè rimanere dove sei no? quante persone entrano a lavorare con noi vedono un nuovo mondo che gli piace ma a un certo punto si raccontano una storiella e torna dove erano prima se sei entrato quello che hai visto ti piace poi dopo un mese una settimana un giorno un'ora ti racconti una storia che quello che hai visto non è vero perché le manette delle abitudini sono troppo dure da rompere e sapendo che non avrai la forza di farlo piuttosto che dire e puntarti il dito addosso ti inventi una storiella per tenerti al sicuro e dici no ma loro no ma lui no ma quello no ma quell'altro no ma quell'altro te lo fai quello di prima non è vero non è così non hai voglia non hai un sogno non sei disposto la motivazione serve per partire le abitudini servono per andare avanti vi do quattro step per iniziare a cambiare le abitudini se volete integrare il cambiamento delle abitudini da domani il primo step è essere consapevole che ci sia qualcosa da cambiare dicono notice in americano cioè notarla individuare l'app che ti sta portando lontano dai tuoi obiettivi piuttosto che verso i tuoi obiettivi se non sei consapevole di qualcosa non puoi modificarla questa è la legge base troppa gente si preoccupa di non essere motivata abbastanza in realtà ci sono degli studi che dimostrano che non è la persona più motivata che raggiunge l'obiettivo ma è la persona che ha più chiarezza nel piano d'azione strategico se io voglio cambiare l'abitudine di andare in palestra che non ho la voglio mettere è chiaro che se io ho un piano chiaro e preciso di come andare in palestra andrò a architettare il mio ambiente affinché quell'abitudine possa instaurarla cioè ad esempio la borsa è quello è fare la borsa è vero è rideto perché lo sapete e in caso dove voglio di fare la borsa se fai la borsa vai sì o no vai se fai la borsa quindi è ovvio che se tu hai chiarezza nell'abitudine che vuoi instaurare in quello che vuoi andare a fare hai un piano molto specifico devo fare quello, quello, quello e quello quello serve di più della motivazione se trovi la borsa già fatta in macchina è piccole cose secondo dicono want desiderio è chiaro che ci vuole del desiderio prima lo devi notare poi devi volere il cambiamento devi desiderare il cambiamento da che cosa notate la quantità di desiderio che avete del cambiare quell'abitudine dal vostro ambiente a parole siano troppo bravi l'ambiente è una risultante di quello che vogliamo se entriamo in tutti i salotti d'Italia troviamo il divano disposto a guardare cosa? cosa c'è? quello vuoi? punto quello vuoi? punto il tuo ambiente dice tutto di te e noi siamo sempre vittima del nostro ambiente quindi magari te non vuoi guardare la televisione ma se il tuo ambiente è disegnato in quel modo cosa finirai per fare? guardarla invece devi scegliere di diventare l'architetto del tuo ambiente quindi sul want volere andate a lavorare sull'ambiente è la più importante per cui come ti dicevo prima prepara la borsa fatela trovare in macchina agisci affinché quella volontà e quel desiderio che hai scritto oggi sulla carta sfoci in comportamenti se non sfocia in comportamento era una favola tre due devi andare a fare devi andare a farlo quindi notalo desiderio lavora sull'ambiente fammi vedere davvero che lo vuoi e poi vai a farlo allora sull'andare a fare vi do un consiglio non è tanto la bravura ognuno di noi è a un punto della curva di apprendimento in tutte le aree della vita prendiamo l'area della salute lo spicchio della salute ognuno di noi qua dentro se si impegna a lavorare in quello spicchio non è nient'altro che su un punto della curva di apprendimento magari io sono qui una persona è qua un'altra è qua se c'è la ripetizione se abbiamo già innescato il do il fare ognuno di noi ha un punto di apprendimento e più sarà la ripetizione più diventiremo bravi quindi il consiglio che vi do sul do non è tanto quello di pensare a farlo ma di trovare un modo per iniziare iniziare quel comportamento prendiamo sempre la palestra cercare di trovare qualche trigger che vi spinga a entrare in macchina se tu entri in macchina vai in palestra io ragazzi non ho mai visto nessuno qualcuno guidare verso la palestra e poi tornare a casa nella terza area del do trovate un trigger un innesco che vi faccia iniziare quel comportamento non vi preoccupate del dopo preoccupatevi di iniziare e poi il quarto è gratifica ok? lo scrivi in italiano perché ovviamente le pessime abitudini hanno una gratifica i stand le buone abitudini hanno una gratifica sul lungo termine ecco perché la maggior parte di persone ha cattive abitudini perché siamo disposti a fare il sacrificio tutti noi solo se poi c'è una gratifica se mangi un dolce mentre lo mangi hai già la gratifica istantanea no? invece se mangi l'insalata lo vedi tra un anno che hai gli addominali quindi il discorso è di cercare di inserire qualcosa che ti gratifica subito mentre fai qualcosa che all'inizio è difficile per te cosa ho fatto io per allenarmi tutti i giorni ho mixato c'è scritto sei foglietti il fare sport a prendermi quei 10-15 minuti per me con la musica a occhi chiusi dove mi centro quindi se non vado a fare sport non faccio neanche quella cosa lì che mi piace da morire è per quello che vado tutti i giorni c'è bisogno di qualcosa che vi appaghi immediatamente le persone che magari amano la formazione a formarsi dovrebbero iniziare a fare sport sentendo degli audiolibro di formazione così magari il pain la pena dello sport è compensata dall'appagamento della crescita personale e attenzione prima o poi la ripetizione farà il suo gioco noi siamo stati proprio programmati per ripetizione ma devi avere la costanza di sacrificarti per un po' di tempo dicono 21 giorni nella mia esperienza non è stato 21 giorni ve lo dico sono stati anni quando poi però ci riesci che cambia abitudine ieri sono arrivati a casa con un paio d'ore d'anticipo e tutti avevano da fare tutti sono qua sono arrivato ci sono tutti avevano da fare i bambini giocavano tra di loro con un amichetto mia moglie era con sua mamma che pianificavano il viaggio e io ero lì sono qua ci sono una volta che ci sono cagatemi il dialogo interno ha iniziato a fare il suo gioco perché il dialogo interno sono le abitudini no? è quella vocina che ti riporta su quel comportamento automatico e ieri mi sono stupito che la mia vocina mi abbia detto vai in palestra sembravo matto c'era la vocina che mi fa dai hai due ore vai in palestra e io mi dicevo ma perché non mi dici di sfondarmi che ho due ore vado sul divano ieri la mia vocina interna che per 35 anni virgola 5 mi ha detto mettiti sul divano fondati di dolci di quello che trovi anche di non commestibile mi ha detto vai in palestra perché poi ho preso la borsa e sono andato e sono stato da Dio non solo erano i pensieri prima vi ho parlato pensieri ed emo io volevo andare in palestra e mi sentivo questa carica e mi dicevo ma sono io sono io e sono andato in palestra ecco quella è la prova che hai cambiato abitudine quando la tua vocina interna non ti porta più sul comportamento depotenziante che fino a ieri ti ha allontanato dall'obiettivo ma ti porta in un comportamento potenziante che ti porta verso il tuo obiettivo solo che ci vuole abbastanza sacrificio per ripetere quel comportamento abbastanza volte quindi è da un anno che mi allena è da un anno che ho un personal fitness coach che mi chiama quando non vado funziona ieri ho avuto la prova che funziona quando poi cambi la tua abitudine cambi il tuo comportamento l'obiettivo è un problema? no questo è l'inizio del vostro indagare dentro le vostre abitudini e iniziare a cambiarli magari per ogni obiettivo scrivete un'abitudine che dovete cambiare non so se l'avete già scritta però con quei 4 step siete sicuri di portarla a termine controlla le tue abitudini o sono loro che controlleranno te come vi dicevo prima qualsiasi cosa di ripetitivo che vi capita vi comanda se voi arrivate in carriera a un certo punto e poi crollate se capita una volta può essere un caso se capita 10 volte è un pattern ripetitivo e vuol dire che sei tu che ti saboti a un certo punto della tua carriera vi potete scaricare sul cellulare un'applicazione per le abitudini le potete scrivere questo è il mio potete mettere la privacy potete mettere il daily reminder tutto secondo voi lo faccio tutti i giorni? no ma assolutamente no ma è scientificamente provato che le persone di successo non sono coloro che fanno come delle macchine tutto tutti i giorni sono semplicemente quelle che tornano prima sui binari tornano prima sui binari che tornano prima sui binari quindi se voi costruite un ambiente intorno che vi tiene sui binari sarà la vostra salvezza voi per la vostra vita dovete augurarvi di essere colui che accende la scintilla perché se non lo fate voi lo farà qualcun altro per voi se voi non accendete la scintilla per la vostra vita qualcuno vi assume per accendere la propria e sarà un fuoco di faglia la vostra quindi è molto intelligente conveniente e giusto essere quella persona che accende la miccia della propria vita oggi avete imparato avete fatto il primo passo sappiate che è un percorso chi è disposto a imparare il percorso di diventare un maestro di raggiungimento degli obiettivi in tutte le aree bene perfetto in due o tre anni siete dei maestri potete venire qua a insegnarlo agli altri ma sappiate che per insegnarlo agli altri prima dovete andarci voi dentro questo processo qua se no sarebbe un semplice corso questo la cosa che dovete apprezzare è che questo non è un corso questo è un seminario fatto da persone che attraverso questo processo hanno cambiato la propria vita e migliaia di vite visto che la maggior parte quando ci sono questi cambiamenti si ossessiona dei dettagli perché questo è subconscio quindi non ve ne faccio una colpa ma io vi chiedo di ossessionarvi della vision no dei dettagli non sono i dettagli che vi fanno diventare milionari è la vision se il vostro focus è lì non può essere sui vostri sogni ossessionatevi dalla vision e se tu hai il focus sul futuro puoi andartelo a creare sono due energie diverse sono due mindset diversi e attrarrete persone diverse volete un team di rompicoglioni? focalizzatevi sui dettagli volete un team di visionari di gente motivata? focalizzatevi sulla vision non esiste la perfezione esiste il progresso ah no devo sapere tutto se so tutto vado a fare le cose non le fai le cose no aprile e parto non parti è una bugia è un'abitudine è quello che rimandi è l'abitudine del procrastinatore volere tutto perfetto per poi partire la perfezione non esiste niente perfetto e conoscete qualcosa di perfetto nel mondo? ditemelo non c'è il progresso bisogna inseguire non la perfezione la prossima decada sarà epica fatela grande per voi fatela grande per la vostra famiglia per il vostro team per la vostra community l'avete visto succederà e noi saremo sempre lì davanti a guidarvi prendendoci tutti gli ostacoli tutte le difficoltà tutte le sfide dietro le quinte che voi non sapete a vostra protezione voi siate chiari con i vostri obiettivi siate focalizzati sugli obiettivi sulla vision e succederà tutto quello che deve succedere ragazzi